Quindi Bruce, non solo hai una femmina e sei entusiasta, eccola qua, ma era anche in calore, io non me ne ero neanche accorto, quindi non l'hai ancora vista e già gli hai dato una botta praticamente, quindi a venire qui, ma sei nato con la camicia, ci credo che sei tutto qui che ti strofini con me, perché sei venuto in un posto dove ti lascerò sempre una femmina, non ti chiuderò mai, puoi fare quello che vuoi e oltretutto io non so come mai, la botta gliel'hai già data subito, o era proprio alla fine, alla fine del calore, o era appena all'inizio, ma non credo, ho fatto sta che ti ho colto con le mani nel sacco e quindi ci credo bene che siamo diventati già amici, che più amici non si può, femmina disponibile, che non è mai così facile, perché si possono trovare femmine e non disponibile, no, tu te l'ho data, femmina, bella, perché lei è bella e c'è pure estate, quindi veramente hai vinto un terno al lotto, ma un lotto di quelli dove hai fatto bingo, bene, quindi non hai nulla che lamentarti, abbiamo fatto tutto, amicizia, fatto sesso, sfrenato, trovato la femmina disponibile, è stata tutta una cosa che ha funzionato, è il motivo che adesso siamo tanto amici.